musica 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 ok benvenuti ragazzi io sono anche Giuci e oggi si riprende con Mega Master Force 2 e Zarkerix Ninja nell'ultimo episodio siamo andati a parlare con Sonia e le abbiamo convinte a ritornare dalla parte dei buoni oggi siamo qui per andare a entrare nella parte più profonda del labirinto delle Bermuda io dovrei aver salvato devo cliccare qui quindi proseguiamo cosa ci aspetterà non ne ho la minima idea ok però meglio salvare un'altra volta in questo perché non voglio fare un'altra passaggio dello schermo boss ecco cosa ci aspetta ok cos'è credo che Vega stia cercando una strada sotto il mare avverto una presenza molto forte qui vicino ehi ragazzo cosa c'è amiga non senti anche tu la sua presenza temo che siamo caduti nella sua trappola ma finalmente vi ne siete accorti ah olu ci hai seguiti ottimo lavoro Arpnot grazie alla tua abilità siamo riusciti ad arrivare fin qui ma com'è? ciò che stavamo cercando è intrappolato qui sto parlando del continente di Mu il continente di Mu allora esiste davvero? è la chiave per liberare Mu? sei tu Mega Man o meglio il manfo che possiedi ora è tutto chiaro ho capito che intenzioni hanno quei faramutti si è tutto come avevo pianificato Arpnot ti abbiamo chiesto di unirti a noi non solo per trovare questo posto ma perché sapevamo che avresti attirato Mega Man allo scoperto questo era il piano ecco come puoi vedere è filato tutto liscio prima mi sbarazzerò di voi due e poi userò il manfo per liberare Mu sta indietro Sonia l'hai sfruttata facendola soffrire ai giocatori il nostro legame hollo è giunta la tua ora molto bene non andarci piano con me Mega Man ok visto che l'hai chiesto così gentilmente io ho tipo metà vita di quella che dovrei avere scusate ho saltato la parte quindi aspettate un attimo è molto più conveniente fare questo più questo più questo però prima diventi invisibile se non mi piace ho l'occhio attacchiato ok qualcosa mi piace fai una barriera non mi pare molto reale da parte tua non è molto bello da parte tua non ci credo ero l'attacco della vita vorrei che fai un casino di me au ok non mi aspettavo che mi facessi così male e dirai anche porca miseria no 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 cosa fa? eh oh oh io torno indietro non fare tutti bravi così ok ma colpirti di sistemare mi sta per sparare aiuto questo non funziona no 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 ma via la barriera ok davvero? nooo di nuovo Ok, mi sta colpendo con tutto quello che è Ok, Orp Note, ma sai che ti dico no Ma perché lo botto nel momento in cui mi hai messo la barriera? No, non ho fermo Aspetta, questa fa il doppio Sei di tipo elettro, giusto? Non mi deludere adesso conoscenza dei tipi Sì, ma perché non è morto? What? Doveva fare 240 Giusto, non era, aveva 340, non 240 Meno male che ho selezionato un'altra carta Ok, ho fallito la mia missione Non posso perdere altro potere Ok, che è successo? Sono ritornato a 520, perché? È sparito Geo, stai bene? Credo di sì Sì, meno male È stata tutta colpa mia, Geo E tu hai sofferto a causa mia Sonia Cosa? Ha aperto qualcosa? Sì, non c'è alcun dubbio È lui Lui chi? Perché tu ti parla? Solo? Ciao Fantastico Perché tu puoi stare sulla strada M in forma umana? Solo E i cani e i cani abbaiano Qualcuno? Non c'è niente di più disgustoso Sparici Posso dire che è una cattiva idea Sonia, non devi farlo Ce ne andremo di qui assieme Ok, ho la possibilità di salvare Sì Per fortuna Ragazzi Mi ricordo ancora che io tentavo come un forse nato di salvare prima di Andromeda Ok, si può salvare anche lui Allora salvo tu Ok Scusate Sonia Di qualcosa No Le persone come te parlano tanto di legami e amicizia Ma non sanno mai arraggiarsi da sole Guarda Ciò che le è successo nella dimostrazione I deboli non diventano più forti semplicemente stringendo amicizie I vostri legami sono insignificanti Guardati Guardati in faccia Sei frustrato? Disperato forse? Una tua amica sta male e tu ti disperi? Sì Mi dispero E ci tengo Sonia Ed è normale che mi disperi quando un mio amico sta male Gli amici non sono persone qualsiasi La persona per cui sei disposto a rischiare la tua stessa vita E sovi una di queste persone Niente al mondo mi rende più triste Di vederla star male Sai Non sei cambiato di una virgola dal nostro primo incontro Eh? Di cosa stai parlando? Fare sempre di amici Legami Potere fratello E anche se continuo a batterti a umiliarti Tu ti rialzi sempre Continuando a ripetere le stesse idiozie Detesto tutto ciò che dici Anzi Detesto la tua stessa esistenza Mi fai ribollire il sangue Io Io odio tutto ciò che rappresenti Perché mi odi? Perché odi tanto il potere fratello? Vuoi saperlo? Bene Te lo ridirò Lo odio perché Sono solo Cosa? Sono l'ultimo rimasto L'unico superstite Di Mu Mu L'unico superstite? Nelle mie vene scorre il sangue di Mu Sono l'ultimo superstite Fin da bambino ho avuto la capacità di vedere le onde M E sulla mano avevo una reliquia di Mu In un navigatore Con esso potevo fare il cambio di onde M La gente mi considerava una specie di mostro Tutti quelli che incontravo pensavano che fosse una minaccia Poi All'improvviso Hanno iniziato ad aggredirmi E lo facevano sempre in gruppo Si riunivano e poi mi attaccavano Tutti insieme In gruppo potevano picchiarmi comodamente Ma da soli Erano tutti legati a codarmi Erano deboli Ecco perché si univano Sebbene fossero solo degli esseri ignobili Pensavano di essere più forti Quando formavano un gruppo Ok Questo spiega molto sulla storia di Solo Io non voglio un gruppo Non sono un vebole Disprezzo il potere fratello Lo detesto Io vivo solo per dimostrare l'inutilità dell'amicizia Io Io ho perso mio padre Eh? E questo cosa c'entra? Quando l'ho perso Ho deciso che non sarei più stato male per colpa degli altri Quindi ho giurato di non stringere più amicizie Ero come te Ho fatto di tutto per evitare gli altri Ma poi Poi sono diventato amico di una persona Sonia Tra di noi si è formato un legame forte Mi ha fatto capire l'importanza di avere degli amici Ecco perché Ecco perché non voglio perdere i miei amici Io li proteggerò Ok salve Zerker So che sei forte Ma tu dici che non ti serve nessuno Ed è proprio questo che ci differenzia Grazie Sonia Mi sono resi conto del mio errore Evitare l'amicizia e disfattare il potere fratello È sbagliato E questa volta Te lo farò capire Una volta per tutte Tu odi l'amicizia Odi il potere fratello E ciò ti rende debole Benissimo Il potere fratello Tu La mia vittoria ti dimostrerà quanto siete patetici Proprio così? Ma è ancora invulnerabile quell'uomo Te lo ricordi? Sarò scontentissimo di fare ninja Ma in realtà conviene di più rimanere Me in questo caso Ah no ok posso coprirlo Oh perché Perché fino a fatto il mio gancio Eddio un gancio Fermati Ok l'ho preso a caso Ok spero che non ci fosse la maniera Ok non ce la Ah Perché essere preso a pugni in faccia fa così male Ok 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 No, l'aggancio, guardatelo, eh, ecco la mia, ti fareva, posso ti fare l'invigile, grazie, no, perché non me lo faccio, ah, questo non l'ho usato, ah, no, questo è fatto, ok, ok, che fai, dove l'hai fatto a parire, quella non vale, oh, 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 fermo, porca miseria, stai a scherzà? Ok, ok, ho un turno di vita, perché mi torno di tanto? No, oh, 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 perché solo è così forte? Ancora oggi, ragazzi, tra tutti i nemici che io abbia mai affrontato, solo è quello più demenzialmente forte. Ok, calcio, perché non muori? Au, riau, la smetti, guardate quest'uomo, ok, alleluia. Adesso non me ne frega niente, io faccio un contrattacco, guarda, non me ne frega niente, guarda, non me ne frega niente, non ero un contrattacco, ma ce l'ho mai. perché non muori? Fai un grande favore a questo mondo. Ok, devo ricordarmi che deve arrivare a 500, quando ho la vita piena, c'è la vita. E sei censo? Perché si è trasformato? giuro, non l'ho fatta apposta, risparga la mia futile vita. Però almeno un po' di cosa. Non puoi avere la barriera sempre! Su, via! Eccolo! La barriera, la barriera, la barriera, la barriera, la barriera, subito, 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 non faccia niente la barriera. non faccia niente la barriera, non faccia niente la barriera. Vieni qua! Eh, ci è venuto, ma... preferisco venuto. Ok. Basta pararsi, una cosa con noi, parata per te. Au! No, no, non lo rifare, non lo rifare. Ti giuro, ti uccido la famiglia che non hai. Ok, non so perché è morto, però va bene. Paranormal falce. Tre tentativi per questo schifo! Ah! No! La mia barriera è M! Non ha resistito! Alla! Alleluia! Non... Non può essere. Ah! Ah! Tu... Tu sei potente! Molto più di me! Ma io ho la Press, Bud, Zack e Sonia. Sono loro che mi danno la forza per combattere. Da solo contro... Da solo sono un ragazzo qualsiasi. Ma con loro al mio fianco. Ho la forza per sconfiggerti. Questo... Non ha alcuna importanza. Ehi! È svenuto lui! Su... Sonia! Scherzavo, sono svenuto pure io. Che storia affascinante! Stai scherzando? Spererei! Mi ho appena fatto fuori. Un altro! Hyde! Tu mi stavi... Spiando! Ti ho spiato? Sì! E ho aspettato! Ho aspettato che Mega Man fosse allo estremo delle forze! Ah! Per noi... Si mette male, ragazzo! Se è così tipo le che sottratti il Manfo sarà come rubare le cramelle a un bambino! E ora il grande epilogo! Conosci bene la scena! La scena in cui il Manfo sarà mio! Aaaah! Come hai fatto a tirarlo fuori? Heheheh! Heheheh! Sì! Ce l'ho fatta! Dove Hollow e Solo hanno fallito! Io ho vinto! Ora la grande Vega non sarà più delusa di me! Grandioso! Questo è il miglior copione che abbiamo iscritto! Heheheh! Heheheh! Perché diventa scuro quando si trasportano? Il... Manfo! Cos'è successo? Aaaah! Qualche giorno dopo... Il Manfo è mio, finalmente! Ottimo lavoro, Hyde! È stato un piacere! Dimmi! Come sta Hollow? Sta bene! Le sue farite non sono molto gravi! Presumo che si riprenderà presto! Molto bene! A ogni modo, ora il Manfo è mio! Il sogno che ho coltivato per tanti anni sta per avverarsi! Vi riferite al ritorno di Mu? Sì! Ci è voluto molto per arrivare fin qui! E pensare che tutto è cominciato quando ho trovato quei manufatti! Wow! Che manufatti sono? Sono tutto ciò che rimane di Mu! Quando ho trovato i navigatori antichi che vi ho consegnato, ho capito tutto! Ho capito che il potere di Mu è superiore a qualsiasi altro! Mu non era solo un'antica civiltà! Usarono la loro conoscenza delle onde M per conquistare il mondo intero! E ora li riporteremo in auge fondando il nuovo impero Mu! E con la rinascita di Mu potrete conquistare questo mondo! Questo mondo! E' popolato da milioni di sciocchi e da poche persone di talento! Solo queste ultime hanno il diritto di nominare i deboli! E' l'unico modo per garantire la felicità? Hehehehe! Avete scritto un copione magnifico grande vega! Hype! Finora non ti ho mai mostrato le mie vere sembianze! Ma come prima per aver ottenuto il manfo! Oh! Oh! Vole tenere un lumino e servitore come me dal vostro velo volto? Questo è l'atto finale! Sei pronto? Esigo solo uomini umani di talento! Non deludermi! Mi raccomando! Come desiderate! Ora andiamo! Faremo rinascere Mu! Ah! 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 Ok! Wow! Cosa si fa nel bar da me? Oh! Dov'è? Oh! Bene! Mi sei svegliato! Press? Cosa ci faccio qui? Non ricordi? Sei tornato qui ridotto come uno straccio! Poi sei svenuto cadendo in un sonno profondo! Ah! Ora ricordo! Sonia! Dove si trova? Ti ha portato qui! Ora lei in ospedale! Stava molto peggio di te! In ospedale! Ma sta bene? Dimmelo! E' in condizioni critiche! No! Zack e Bud sono già partiti per l'ospedale! Tra poco dovrebbero chiamarmi! Ah! Ecco una chiamata! Accesso! Bud! Come sta Sonia? Geo! Ti sei ripreso? Meno male! Stiamo andando a trovare Sonia! Oh! Dovete accendere subito la tv! Non crederete ai vostri occhi! Ho un bruttissimo presentimento! Cosa starà succedendo? Presto ragazzo! Sono curioso! Curioso non è il termine che avrei usato mica! Ma ragazzi! Per questo episodio è tutto! Quindi se vi è piaciuto lasci il momento! Mettete un mi piace! Iscrivetevi! E noi ci vediamo in un prossimo video! Con la press in camera mia! Quindi! Bella ragazzi!